Affrontiamo adesso un altro tema importante che è quello del ruolo del medico di famiglia. Buongiorno e ben trovato con il dottor Guido Sanna che esercita questa professione e qui affrontiamo un capitolo importante perché poi il medico di famiglia è sicuramente uno dei primi anelli che vengono in qualche modo consultati proprio dalle famiglie. Quindi ripeto per tutti, facciamo questo intervento, poi ci sarà un coffee break ma noi restiamo qui almeno i primi allenatori, quindi la dottoressa Benedetti, la dottoressa Sozio, il dottor Migliorini e il dottor Sanna perché facciamo le interviste. Quindi grazie, ben trovato dottor Sanna, grazie. Grazie a voi, saluto tutti, buongiorno. Un particolare ringraziamento alla Onlus e a tutti coloro i quali si battono in maniera sicuramente molto più eroica in quello che facciamo noi che siamo medici del territorio per veramente la tutela di questi malati che sono malati complessi, cronici, spesso sottovalutati e sottostimati nell'importanza delle manifestazioni ma soprattutto della decurtazione che si ha delle capacità di poter condurre una vita normale, una qualità di vita normale rispetto al resto della popolazione generale. e ho apprezzato molto quello che ha detto il dottor Migliorini che conoscevo già per la sua onestà intellettuale e questa battaglia però bisogna condurla tutti insieme perché il fatto che ci sia stato un grosso lavoro che io ho visto anche nelle riunioni che abbiamo fatto al Censis per quanto riguarda i malati neoplastici che hanno anche loro questo problema di riconoscimento corretto dell'imbalità civile e c'è questa disinergia, è una piccola premessa ma una vera dissociazione tra quella che è l'evoluzione della scienza e quelle che sono le nuove acquisizioni e le nuove conoscenze che impegnano tante risorse, tanti uomini e tanti professionisti nel mondo e questo ralentamento sempre, questa lentezza inesorabile dello Stato a riconoscere i dati di fatto non solo le nuove classificazioni ma il modo diverso di affrontare in maniera coordinata anche in maniera più appropriata queste malattie che meritano, ripeto, attenzione ed è la passione che poi mi porta a fare questo lavoro da tanto tempo a interessarmi di queste malattie che sono veramente una continua sfida per il medico per poter aiutare sempre meglio queste persone che purtroppo continuano a esserci che è un problema veramente, è una sfida che bisogna affrontare e da qui bisogna, come dire, cercare di acquisire la capacità sempre di guardare avanti e di non fermarsi che è una cosa fondamentale proprio per dare speranza e capacità anche di reazione a queste famiglie e a questi malattie che ne hanno veramente bisogno il mio ruolo è quello del medico di medicina generale, io lavoro in una città, adesso in una città come Cagliari, che è una città metropolitana, però il medico di famiglia ha un ruolo chiave nella vita delle famiglie perché ne conosce la storia, ne conosce la storia clinica, ne conosce tutte le situazioni che si compenetrano dal punto di vista sociale, economico e sanitario e ha un ruolo di elaborazione dei problemi che devono essere molto spesso arrivano in maniera disordinata in maniera incoordinata da noi e devono essere invece riordinati e resi risolvibili appunto da un approccio coerente, da un approccio corretto, da un approccio razionale, per cui dobbiamo comunicare, stabilire le priorità, avere tutta una serie di questioni che poi ci portano anche a essere dei medici e ovviamente certificatori. Il certificato è un atto ufficiale, il certificato medico che accompagna la domanda per la richiesta dell'invalidità civile e anche dell'accompagnamento e anche di altre, come dire, tutele previdenziali, è un documento ufficiale per cui deve essere redatto in maniera corretta. Oggi possiamo dire che grazie al lavoro che ha fatto l'Inps e che hanno fatto tanti enti che lavorano con noi, l'Inail per esempio, il modo di trasmissione, di elaborazione del certificato online rende tutto più omogeneo, rende tutto più, come dire, tracciabile, rende tutto più trasparente, però ci sono sicuramente delle criticità. Il medico in questo si deve impegnare a fare un lavoro di chiarezza sia nei conflutti dell'ente previdenziale che in questo caso è l'Inps, sia nei conflutti del paziente e della famiglia che devono capire realmente qual è l'importanza di questo documento e soprattutto del suo valore nella stabilizzazione, nello stabilire il grado di tutela e di previdenza per quanto riguarda il paziente e la sua famiglia. Quindi queste sono le caratteristiche fondamentali di qualsiasi certificato che deve essere, come dire, razionalmente e in maniera corretta compilato e inviato all'Inps. Qui vedete lo schema che sembra un po' complesso, però in realtà noi facciamo un certificato interamente online, lo inviamo noi per via telematica all'Inps, prendendo le notizie da dove? Dalla nostra cartella clinica, dalla cartella clinica che noi abbiamo nel nostro PC, in cui c'è la storia di questi pazienti, in cui spesso qualche cosa ci sfugge, però gran parte delle cose noi le annotiamo e quindi tutto questo viene inserito in questo certificato che poi vi farò vedere anche in maniera col modulo e viene inviato all'Inps. Però cosa facciamo noi? Diamo al nostro paziente o alla sua famiglia una copia cartaccia del certificato che è stato inviato in maniera col modulo all'Inps e gli diamo anche un attestato di trasmissione, cioè un documento in cui è una sorta di ricevuta da parte dell'Inps che quel certificato è stato regolarmente inviato. Con questo attestato la famiglia deve rivolgersi solitamente a un CAF, a un patronato, a un'associazione per esempio di tutela dei pazienti che provvederà a compilare la domanda correttamente allegando questo attestato che servirà poi alla commissione assieme alla domanda, con chiaramente il certificato medico per poi procedere alla valutazione delle condizioni di questa persona per poi stabilire con quelle tabelle di cui vi ha parlato il dottor Migliorini e in base a una visita clinica che dovrebbe essere sempre fatta per valutare le condizioni, lo stato dell'arte e della salute di questa persona, stilare un verbale finale che viene reinviato alla famiglia, quindi al paziente, con il risultato e il referto della commissione medica per invalidità civile che solitamente nelle gran parte delle città e nelle sedi Inps, solitamente provinciali, ma anche nelle ASL dove ci sono delle commissioni mediche che sono delle commissioni dove ci sono dei medici di famiglia, degli specialisti, però molto spesso come abbiamo visto ci sono molte discrepanze che non sono chiaramente facilmente accettabili da parte dei familiari, ma anche da parte di noi medici che teoricamente dovremmo essere chiamati che c'è scritto nella compilazione del certificato, noi potremmo essere chiamati ad assistere il nostro paziente al momento della visita, ma non ci andiamo mai per quale motivo, perché non ci ascoltano questa è la verità, io ci sono andato tre volte, non ci sono più tornato, mi sono sentito umiliato più del paziente, perché venivo considerato quasi un complice, non uno che poteva dare, un professionista che poteva dare delle ulteriori informazioni per rendere più chiaro, perché non vogliono perdere tempo c'è da dire che hanno un grande carico di lavoro, però questo non toglie che il lavoro non debba essere fatto correttamente, questo è un bias su cui secondo me si potrebbe discutere molto però io l'ho verificato sulla mia pelle perché ci sono proprio andato, quindi sono andato a verificare chi c'era e come si comportava e questo non mi ha molto rincuorato dal punto di vista né medico né etico né scientifico, perché ho visto che si tratta molto spesso di una questione quasi contabile, che non tiene conto realmente in maniera accurata delle condizioni di quella persona, chiunque esso sia, minore o adulto, questo è un problema che bisogna secondo me cominciare a corsa, quindi il certificato di invalidità civile è quello su cui noi ci soffermiamo, però vedete, le nostre certificazioni sono tante, vedete quante certificazioni fa il medico di famiglia e molto spesso dobbiamo andare a ricevere queste persone su appuntamento perché ricostruire tutta la storia clinica per fare una relazione clinica corretta richiede tempo e non può essere fatta in cinque minuti, anche perché molte cose possono richiedere degli approfondimenti, richiedimenti, anche un'ulteriore visita in quel momento per stabilire se quel disturbo è importante realmente per il riconoscimento dell'invalidità civile. E quindi ci dice la legge del marzo del 1971 che praticamente il certificato medico attestando l'epoca di insorgenza e la natura delle infermità invalidanti, le relative diagnosi, le ripercussioni sull'efficienza psicofisica in relazione alla capacità lavorativa della persona senza fornire indicazioni percentuali che sono di esclusiva competenza della proposta commissione medica che infatti utilizza quelle tabelle che noi da tanto tempo chiediamo che vengano aggiornate per una questione di dignità veramente non solo della persona ma di dignità della scienza medica perché non è pensabile che si utilizzino classificazioni e parametri che sono obsoleti e fuori da qualsiasi, come dire, utilizzo ormai corrente nella pratica clinica. Questa è una cosa veramente importante per un paese che dice di essere un paese civile, un paese avanzato, quale l'Italia. E questo è il modulo, vedete, questo è il modulo che noi consegniamo al paziente, è composto di diverse pagine, sono quattro pagine in cui il medico sintetizza l'anamnesi, lo stato obiettivo, quindi deve visitare il paziente e fare una specie di summary, di riassunto delle condizioni del paziente in quel momento, le diagnosi, deve riportare tutte le diagnosi, sia quelle pregresse, sia quelle praticamente attive e poi deve fare la classificazione. Anche qui entriamo in un campo in cui nonostante ci sia stata una evoluzione della classificazione delle malattie, la nosologia classificativa ormai è arrivata all'ICD11 in Europa, però noi potremmo usare l'ICD9 e questo un po' limita effettivamente nel cercare i codici corretti sulle malattie, perché molte malattie proprio non ci sono, oltre che essere delle malattie definite in maniera diversa da quella che è attualmente l'annosologia corrente. E questa è una cosa che merita una grossa riflessione da parte di tutti, ma soprattutto da parte dei politici che tendono molto spesso a sconfessare la scienza, salvo quando sono malati loro. Questa è una polemica molto dura che faccio, però è vero, è vero. E bisogna qualche volta ricordarglielo. Questa invece è l'ultima parte del certificato, vedete, è la terza pagina, dove il medico deve scrivere i suoi dati, deve scrivere il suo numero di iscrizione all'ordine provinciale, scrivere se è uno specialista, scrivere, insomma, identificarsi, chiedendo inoltre se ci sono delle particolari necessità di tutela, per esempio, dichiarando che il paziente per esempio non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, lavarsi, alimentarsi da solo, oppure che non riesce per esempio a deambulare da solo, che ha bisogno sempre di essere accompagnato. Tutte queste, se per esempio portatori di una malattia psichiatrica, che magari è stata per esempio, come dire, che viene curata anche tramite enti, come per esempio l'associazione per i malatti autistici, cioè ci sono tutta una serie di clausole in cui dobbiamo intervenire. Come del resto dobbiamo biffare se si tratta di cecità, se si tratta di sordità, patologico ovviamente, e poi stabilire chiaramente il grado, ovviamente secondo il nostro parere clinico, di disabilità o di indica. E per questo, diciamo, si invia online all'Inps. L'ultimo foglio che vedete qui è quello dell'attestato, di quello che noi separiamo dal certificato, che noi consegniamo solitamente in cartaccio al paziente per evitare di dovergli dare un file, un pdf, che potremmo anche dargli, però sicuramente è molto più pratico a includere nella sua documentazione un certificato di quattro pagine che noi solitamente firmiamo, quindi un certificato in originale e datiamo, e che viene poi portato anche dal paziente quando va a fare la visita alla Commissione Medica, giusto per avere un documento in cui ci sia tutto quello che noi abbiamo scritto. Invece l'attestato va consegnato, come vi ho detto, al CAF, che poi, o al patronato, che poi provvederà a legarlo alla domanda. Il certificato, quindi, è un momento ufficiale che però sintetizza, è la somma, la summa, il riassunto, molto spesso di una vita di martia, di sforzi anche per trovare la giusta diagnosi e la giusta cura. E non è facile, molto spesso, in poche parole, sintetizzare questo, però noi lo facciamo quasi sempre, cerchiamo anche di dedicarci molto tempo per usare la formula, la forma verbale corretta per poter descrivere bene tutto e anche in sintesi. Però molto spesso questo non viene neanche letto, perché si passa direttamente alle patologie, si fa la tabella e finisce lì. Io l'ho visto con i miei occhi, quindi non è che me l'hanno raccontato. E questa non è una cosa molto bella per i pazienti, perché oltretutto questo certificato è uno dei certificati a pagamento, quindi deve anche pagare questo certificato, perché in base agli accordi che ci sono con l'Ips, il costo del certificato è di 50 euro, che vengono regolarmente fatturate, si farà ricevuta, quindi il paziente teoricamente lo potrebbe mettere in detrazione, però è sempre comunque un costo, anche per coloro i quali molto spesso soldini non ne hanno tanti, soprattutto in questo periodo di crisi non facile da affrontare. Una volta inviato il certificato, il certificato viene mandato in un server, che è quello dell'Ips, dove viene chiaramente inviato poi alla Commissione, che provvederà poi a fissare la data della visita della Commissione Medica, inviando, ma raccomandata, solitamente con il ricevuto di ritorno, a casa del paziente, che poi lì avrà tempo, 10-15 giorni, per organizzarsi, per poter recarsi, accompagnato sempre dalla famiglia, anche dal suo medico se vuole, alla visita della Commissione Medica. C'è poi il problema dell'intrasportabilità. L'intrasportabilità è una condizione che deve essere certificata dal medico, medico di medicina generale, con un'ulteriore comunicazione alla Commissione prima della data prevista per la visita, in modo tale che in quel momento la Commissione propone una nuova data in cui la Commissione accederà al domicilio del paziente per poter fare la visita a domicilio. Sono i pazienti soprattutto i più gravi, quelli che non hanno la possibilità di essere trasportati nelle strutture dell'Inps o dell'Asl e quindi chiaramente questo lo dobbiamo prevedere da subito e solitamente lo facciamo automaticamente. Scusa dottor Sanna, sentite bene in fondo perché abbiamo un po' di ritorno dalla strada grande o dobbiamo alzare? Ok, grazie, grazie. L'altra cosa importante è che se il paziente è portatore di una malattia oncologica, è affetto da una malattia oncologica importante, deve essere dichiarato nel certificato in modo tale che in un certo senso la Commissione tende a dare proprio per la gravità della patologia una pista preferenziale, quindi all'accelerazione la visita e se il paziente per esempio è ricoverato, perché poi magari deve fare un ciclo di chemoterapia, la Commissione può accedere anche in ospedale e quindi fare la visita all'interno della struttura di ricopero per poter fare il verbale e dare il riconoscimento che la mettere in validità civile. Qui c'è un po' la summa di quello che vi ho detto, il certificato ha una validità di 90 giorni, dal momento in cui viene la data in cui viene redatto c'è 90 giorni di tempo per il paziente e la sua famiglia per presentare la domanda, dopodiché il certificato deve essere rifatto perché in quel momento non viene più considerato valido ai fini della certificazione per la Commissione di validità civile. Infine, quindi ho risintetizzato tutto quello che abbiamo detto, tutte le informazioni le potete trovare sicuramente in maniera dettagliata sul sito dell'Inps che attualmente funziona molto bene e ci dà tanta informazione anche in tempo reale, dove trovate anche le note, le circolari e anche tutto ciò che è stata l'evoluzione del lavoro fatto anche dagli esperti in tema di previdenza e di tutela proprio degli invalidi civili e dei portatori eventualmente di indicato. Però quello che io voglio dire è che un atto amministrativo, un atto burocratico, un atto di certificazione deve avere un senso che è quello di garantire che poi questa persona venga veramente presa in carico dai medici, da chi lo deve assistere per avere tutte quelle tutele che non sono solamente quello che potrà avvenire da un riconoscimento previdenziale, da una pensione, da un'indietà di accompagnamento, ma proprio dal fatto che deve essere accompagnato in un percorso clinico assistenziale che sia veramente non appagante, ma utile veramente a migliorare la condizione e la qualità della sua vita e soprattutto la qualità della sua famiglia. Io ricordo sempre, come l'ho ricordato in altre occasioni, che ogni malattia cronica cambia la vita di tutta la famiglia, non solo del paziente. E quindi questo bisogna mettere in incontro perché la qualità dell'assistenza è dovuta soprattutto anche al fatto che i familiari vengono in un certo senso supportati sempre e comunque nel loro percorso anche di supporto appunto al loro caro paziente affetto appunto da una malattia rara o da una malattia cronica e hanno bisogno di essere seguiti sempre perché purtroppo anche l'usura di questa attività assistenziale molto spesso crea dei problemi grossi. Non dimentichiamoci quello che è successo proprio in Sardegna qualche tempo fa, che una mamma disperata al secondo tentativo ci è riuscita e ha ucciso due gemelli affetti da 40 anni, erano due adulti, quindi 40 anni che venivano assistiti, tra l'altro la sorella era pure medico, però è bastato un attimo di misattenzione ed è successo il fin mondo. Quindi è importante questo, io non me lo scordo mai che cosa succede in queste case dove io entro molto spesso per la prima volta e dove mi accorgo di quanto queste situazioni possono essere pesanti e difficilmente affrontabili, però ci dobbiamo provare e quindi la nostra sfida è quella per il futuro di provarci sempre e comunque con energia, con passione e con determinazione. Grazie.